muro ma siamo davvero sto sudando sto iniziando a sudare non è normale sta cosa o portatemi un pocamo di nascosto alla voca perfetto però non sono delle mutande ti prego glum va bene non è delle mutande cos'è quella bava eh 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 cos'è la fatta con un glum basta noi che pensavamo che fosse un nuovo posto aiuto aiuto ok ora accetta c'è tutta la tua roba no non mi dire non mi dire devi cancellarti l'account è una cosa che potresti fare ne sarei capace ma non lo faccio cos'è sta roba cos'è cos'è vai avanti no vai avanti vai avanti vai forza scherzando ora non è più apri ma che cazzo ti ridi ma perché secondo me stava avendo chiave no ha fatto una specie di che cazzo ti ridi ma che cazzo ti ridi ma che cazzo ti ridi ma no no mi sa che mancano ancora litiche non la troverò mai io non guardo no 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 Guarda, sono dei pezzi, sono passati, dovrei essere impiccato in questo caso Vabbè, ma quelli sono dettagli, non vedi anche loro No ragazzi, vi giuro Però allora, che ti stronzo dentro, sei C'era una testa, c'era una testa, vi giuro che c'era una testa Perché si chiama Scott? C'era scritto Scott Padre scritto di Scott, Timer Rosso, rosso, sono solo mio Io ti drago, io ti drago tutta la vita No, c'è una patata là, eh vabbè E c'era anche la carota, io l'ho andata per quello No, la carota ce l'ho, è la patata che mi manca Oddio, l'ho capita adesso Credo che sia un altro gioco dove ci si spaventerà Idioti Sì, perché sono imbecilli Idiota tu Perché, no, ma perché sei nato puttano Uh, uh, tua madre Uh, uh Ti ha fatto uh Uh, sì Tipo, uh Io faccio gli accetti, duro come legno C'è un lato positivo che ti stanno facendo giuro l'ultimo attore Ah, beh dai, c'è un consigliatore di me Ha parlato quello che gioca Non vedo Mi stanno esplodendo tutte le luci di casa Adesso stanno dire, tu è esplodendo Non si stanno spegnendo Sì, sì, ma le stanno facendo esplodere tutti i figli di puttano Bambini molesti ai miei tempi non si faceva così È davvero mio nonno Mio nonno Ciao Siamo un attimo Signo, signo, signo Ce la chiede di What the fuck Sei per seo 30 seo Questo è tutto Guarda, se ti dico che l'ho pescata adesso non ci crederai mai No No No, ma poi 4, eh, nel senso Allora, 4, 4, 4, là, perfetto Guarda, 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 no Ti è arrivato in ritardo A me è arrivato prima Aspetta, aspetta Aspetta E, voler ok non mi ricordavo che sapesse esplodere non morire non morire non morire non morire perché 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 allora tasto destra apri il periodo bene ragazzo sono dicapato facciamo gli slab adesso 54 slab di mattoni e ne abbiamo molti di più adesso cecce spostati che mi riesco a pensare spostati spostato troppo direi aiuto a caso freccia della vittoria 9 sono 9 loro guardali come perdono adesso tifosi non si può aspetta simon to fuoco 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 duco perché fu duco fuoco fuoco ho la lana ho la lana ho la lana non sono i mezzi cactus adesso è vicino alla sua classica uscita oddio ne ho tanti di amici io non ce ne ho solo uno lo so allora ti dico il nome simone quale dei tanti perché ho 5 6 simone che conosco io amico bello ok simone al chissi lo youtuber esatto italy italy benvenuti ragazzi io sono gisius e questi sono stati gli ultimate highlights spero che vi siano piaciuti se è così lasciate un commento mettete mi piace e perché no iscrivetevi tutti i video sono in descrizione quindi da un'occhiata se avete notato che non c'è la vostra parte preferita oppure volete semplicemente darmi dei consigli sui prossimi highlights lasciate un commento un ringraziamento speciale va a roma rosso e anche a diso soprattutto a roma per avermi aiutato nel montaggio dei video noi come al solito ci vediamo nel prossimo video quindi bella ragazzi